amici di directa sport di dcs e benvenuti al paladante di sesto non aggiornata del campionato di serie a2 girone a si affrontano quest'oggi città di sesto e l84 siamo subito sulla fascia dietro verso il tiro palla fuori di poco prima occasione per città di sesto c'è rosano osia fatto marchiuri il tunnel di osia rietta di orrete città di sesto in vantaggio 50 secondi di gioco mates osia porta in vantaggio la squadra di casa grandissima azione quella numero 10 e prende il gioco subito ribattuta e l'altro contrasto osia per dall'onder dall'onder perfetta casu casu a conclusione a square la botta di a square l'uberto in trastinzione bianini miani il tiro palla fuori da l'onder si gira a conclusione palla out animi abbastanza sorriscaldati parte la tramite la punizione palla altissima la palla per ep tocco sotto l'uberto controlla con la sola poi c'è il tiro di osia lo scarico rufine di prima verso ep salvando la sovramazzo e poi ci prova osian lo punta la palla forte dentro l'incrocio dei pari colpito da osian poi ep rossuta per un attimo per se via palla ruccio il fisico pesante di dall'onder che intanto ci prova il numero 4 che poi arriva il tiro il palo di rufine rodriguez la botta zanatta rufino superato ruccio ruccio e l'atlani lo chiude lui basta un gol di nezzosia dopo 50 secondi ma regale la terza vittoria consecutiva città di sesto punteggio finale città di sesto 1 e la seta 4 0